Avrebbe voluto soffiare al posto della moglie per sottrarre la consorte al test dell'etilometro dopo un incidente. È successo la scorsa notte a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. La donna, una 28enne residente in provincia di Como, secondo quanto ricostruito si trovava alla guida dell'auto di proprietà della madre. Al suo fianco, un'amica 21enne, nei pressi di un incrocio, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi prima contro un cartello stradale, abbattendolo, e poi contro un palo della luce, dove ha fermato la sua corsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Seregno. Dopo aver fatto soccorrere le due giovani dai sanitari del 118, i militari hanno chiesto alla 28enne di sottoporsi all'alcol test. Proprio in quel momento è arrivato il marito della donna, che avendo intuito quale sarebbe stato il probabile risultato del test, si è offerto, ovviamente senza successo, di poterlo fare al posto della consorte, chiedendo ai carabinieri se avesse potuto soffiare lui nell'etilometro. La giovane, quindi sottoposta alle due prove previste, risultate in entrambe positiva, con un tasso quasi due volte superiore al limite consentito. È stata dunque denunciata per guida in stato di ebrezza con ritiro della patente. Entrambe le ragazze sono state poi visitate in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Caratebrianza.